Innanzitutto diciamo che Nanni Twitch è un canale di just chatting possiamo dire o di altro anche Spiega un po' chi sei Nanni, chi sei, spiegalo a questo pubblico Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno chat e vi dico buongiorno che sono orari un po' strani, sono 5.55 di mattina qua Perché te sei in Australia, esatto, esatto No nulla, io faccio praticamente, ho iniziato Twitch da due mesi e mezzo neanche Che però è come passione o attività secondaria rispetto a quello che poi faccio che è l'head chef Che in realtà è un parolone ma vuol dire semplicemente responsabile di cucina qua a Melbourne in Australia E mi sono apprezzo conto che le luci sono abbastanza cacare Ok Peraltro Quindi sì, faccio chef da tre anni in pratica, in Australia E allora innanzitutto ti devo chiedere quanti anni hai perché non ho ben capito 27 27, quindi sei due anni più piccolo di me Ecco mi puoi raccontare il nostro incontro perché se no è molto strappo Come abbiamo fatto a finire qua in questa live insieme? Allora, io stavo in realtà streamando un gioco di merda a orari chiaramente assurdi italiani Che però in realtà per me è la mattina perché copro sempre la notte italiana che da me è mattina E a un certo punto dal niente assoluto vedo tipo il commento di Darione in chat della serie Com'era tipo il commento? Ma tra me ha detto nessuno che sembri il classico professore che si scopa le mamme Tipo una roba del genere Per lì chiaramente c'è già E comunque è un onore E' una gioia vedere anche streamer oltre che comunque seguiti da anni in chat propria E quindi sono rimasto un po' interdetto e poi nulla Abbiamo scambiato qualche parola e poi sono stato io ad approcciare Mi sono auto richiesto l'intervista in pratica Ho avuto la faccia di culo di contattarti poi in privato Ma guarda in realtà se la cosa mi avesse abbastanza fatto cagare Uno o te l'avrei detto Due t'avrei gostato tranquillamente Non ti preoccupare Insomma in realtà l'ho reputata una cosa interessante Perché un livornese che prende Se ne va in Australia a farlo chef è sicuramente una cosa abbastanza singolare Quindi ovviamente ti voglio fare un po' di domande E poi credo che anche la chat abbia voglia di chiederti qualcosa Allora innanzitutto come mai hai preso la decisione di levarti dal cazzo da Livorno Quindi da una città di mare, Toscana Per arrivare poi in Australia Anche se però mi hai detto che te prima di arrivare in Australia Hai fatto parecchi girottoli in giro per il mondo Sì 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 Io ho praticamente finito la scuola Che mi sono diplomato a Pisa come perito agrario E facevo poi dei lavoretti un po' così del cazzo Tipo fotografo, cassiere al supermercato PAM Sti lavori un po' della minchia Ed ebbi la fortuna di scoprire questo sito che si chiamava Au Pair World Una roba del genere Comunque andai a farlo per Quindi ragazza alla pari Che è l'esperienza dove vai nella casa E fai diciamo il babysitter ai ragazzetti In cambio di una paghetta settimanale La famiglia chiaramente ti ospita all'estero E sono andato prima in Olanda e poi in Irlanda E tornando sempre un po' indietro in Italia nel mezzo Poi per puro caso in realtà iniziai a lavorare in cucina E da lì è iniziata tutta l'esperienza in Italia in cucina Poi sono andato a lavorare in Austria E un bel giorno d'agosto mentre me ne stavo in Austria Praticamente a farmi abbiatamente i cazzi miei Facevo le stagioni Facevo tipo sei mesi E poi tornavo un mese Sei mesi Poi tornavo un mese Comunque abbastanza pagato Ter quattro stelle Quindi anche figo come esperienza E mio zio che in realtà era in Australia già da Da quanti anni? Da cinque anni Era già cittadino E ha aperto un'attività qua a Melbourne Con un ristorante tipico livornese toscano E mi ha chiamato a lavorare fondamentalmente Ah quindi fai cucina livornese in Australia? Cioè questo è il senso Gans Qui invece ti volevo chiedere una cosa sul discorso del Di andare in casa di sconosciuti e badagli il bimbo Io ho sentito di storie tremende, raccapriccianti Ma è vera, cioè è brutta l'esperienza di ragazzo alla pari Oppure no? Bah senti diciamo che è abbastanza Dipende dalla famiglia in cui ti ritrovi I bimbetti di solito all'estero A meno quelli che ho trovato io Non sono mai stati grandi Diciamo troppo educati No quelli in Irlanda erano dei bravi ragazzi Quelli in Irlanda per esempio erano dei matti Cioè c'erano dieci anni ma veramente Roba tipo che ti sbattevano le porte in faccia Cioè ti mandavano affanculo proprio pronti via alle cinque di mattina Quindi diciamo che è un po' fadigoso Perché già il frate già comunque il ragazzetto è difficile da starci dietro Se poi non rappresenti un'autorità per lui Cioè ti va un bel pezzo del culino ecco Esatto Ma te chi sei per dimmi di vestirmi la mattina capito? Ma quanto ti davano di paghetta per badà a questi figlioli? Ma una sega tipo 150 euro a settimana Cioè ti dà perché in realtà il concetto è La famiglia ti ospita Te hai la possibilità di vedere o comunque di vivere Fuori casa quindi fuori all'estero E ti danno il minimo chiaramente Vitto e alloggio pagato In più ti danno questa paghetta extra Così magari nei giorni liberi ti vai a Prendi il trenno e te ne vai a Amsterdam per dire Ok Sì Vabbè Però è abbastanza tosta ecco come esperienza E comunque è interessante perché ti dà la possibilità di Di esplorare o di vedere No magari paesi Che Che Senza troppi impegni ecco Perché magari fai un'esperienza di cinque mesi Vedi un po' com'è la vita e poi te ne torni a casa Quindi ti ha servita come esperienza Le vatti al cazzo e fa questa roba qua Sì 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 anche per l'inglese soprattutto Ok Anche per la lingua Sì 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 E non ti manca Livorno? Cioè non ti manca l'Italia? Senti Mi manca vabbè la famiglia ovviamente E Quante volte tu vedi? Eh poco Sono tornato in tre anni in Australia Sono tornato Una No quando era a gennaio Dopo due anni praticamente Quindi non molto Eh ma è tosta perché Cioè fai conto che Comunque tornare a casa vuol dire Prendersi almeno un mese di ferie E farsi 24 ore d'aereo A tornare 24 ore d'aereo A ritorna ancora Cioè comunque Non so 800 euro di biglietto Anche di più 1300-1400 euro di biglietto Insomma non è Prendo il treno e vado No è comodissimo No lo riconosco Eh mi dicevi Di rispetto che ti manca Cioè a parte la famiglia Sì 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 Famiglia Mangia Chiaramente Cioè qua per esempio La mortadella È difficile da trovare Quindi è una mancanza Che è difficile A cui è difficile sopperire E poi in realtà Dell'Italia Ti può mancare magari Un po' Il paesaggio O O Non so Qualche amico Ma poi in realtà Anche no Perché vedi Nel mondo in cui vivi Poi Ti fa scordare tutto In pratica No io invece Non ce la farei mai Ma forse perché abbiamo Uno o due caratteri diversi Oppure due passati diversi Perché io per esempio Difficilmente riuscirei A abbandonare Il mio giro d'amicizia Che c'ho qui in Italia Per iniziare una nuova vita In Australia Penso che O in un altro paese In realtà Penso che ci voglia anche Il coraggio Di tagliare i punti Col proprio passato Con insomma La vecchia compagnia E Poi dipende Se hai avuto brutti rapporti O hai chiuso rapporti Con i tuoi vecchi amici Con la Addirittura con la tua famiglia È giusto levarsi dal cazzo Insomma Cercare nuove esperienze Verso altri ridi Però io A me farebbe paura Una roba del genere Poi l'Australia Insomma Come ti trovi Come la trovi l'Australia Senti Ti dico Il discorso che stai facendo prima Ti aggiungo Che effettivamente È un po' spaventoso Vabbè La famiglia lo sai sempre Che c'è comunque Ti supporta No almeno Solitamente Ti supporta Qualunque scelta fai Che ti rendi conto Poi in realtà Degli amici Chi è che No Ti sta Ti sta più vicino E chi Alla fine Se ne sbatte un po' I coglioni Perché magari Anche gente Con cui si è cresciuto Sia Magari di infanzia E anche comunque In adolescenza E con cui avevo Magari anche Rapporti lavorativi Eccetera Poi ti vanno Ti vanno in domo Ecco E Diciamo che si Fanno presto a dimenticarsi E Chiaramente Vivere la loro vita Però neanche fare Quel piccolo sforzo Per Da dire Minchia Nanni Due anni che non lo vedo Sono tornato E Neanche ho lo sforzo Di mandare un messaggio Nanni ma Becchiamoci per un caffè Vediamoci per un caffè Quindi a volte Ti fanno rimanere un po' No Spiazzato Però vabbè Diciamo che Abbiamo fatto Una grande scrematura Di amici Questi anni Vabbè Magari ti è servito Anche a capire Chi erano i veri amici E chi no Sì 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 Che è una cosa Sempre positiva E negativa Agrodolce Diciamo però Serbia Agrodolce sì E quando sei arrivato In Australia Ti sei trovato Fin da subito bene Oppure ci hai voluto Un po' Per ambientarti Un posto di genere Ma è abbastanza Abbastanza bene In realtà È un paese Che è molto facile È proprio molto facile A livello A livello sociale E A livello lavorativo In tutti i fronti Non mi è mai pesato Il fatto di essere fuori casa E quindi Ti direi che Anzi Ti facilita È molto funzionale Non è complicato Come magari può essere l'Italia Con fogli Uffici strani E procedimenti assurdi Cioè Qua arrivi Se sei il visto Cioè Arrivi e sei pronto Sei pronto a partire Non c'hai bisogno Di nient'altro Forse fai Magari vai a fare L'assicurazione Un giorno in ufficio Bon basta È finito Quindi Bene da subito Ecco Ottimo Clevergold Hai mai fatto a botte Con un canguro Vabbè le solite domande Ecco Però L'Australia è famosa Per gli animali Raccapriccianti E per questa vastità Di creature strane Ecco Da quel punto di vista Invece Ti è mai capitata Un'esperienza Surreale Con qualche animale Un po' più particolare O spaventoso Vai In realtà No Perché alla fine Comunque Io sto a Melbourne Che ha 4 milioni e mezzo Di abitanti Quindi è una metropoli Cioè È difficile trovare Il ragno Nella città Capito È un po' come Sono a sega Non vada a vivere in Umbria Perché c'è l'orsi Sulle montagne Il discorso È normale Che se ti vai Nella foresta Nelle frasche O a arza sassi O a filare le mani Nelle bue per terra Magari il ragno Lo trovi anche Però Io per esempio In 3 anni Mi ragazza Che comunque Ha la sua Buonità E fa trekking Da una vita E non ha mai trovato Neanche un serpente Per dire È australiana Magari se vai nel deserto Vai a rompeoglioni Insomma Nella selvaggina Sì Chiaramente li trovi Perché ci sono Le specie più volenose Però non sono Proprio comuni Ecco Ho capito Quindi Fa una leggenda E invece ora Parliamo del lavoro Perché Allora Mi paccio a un ristorante No? Sì Quindi se vorrei Tornare in Italia E poi Avevo un lavoro Da Venga a lavorare Sì sì Lavorare da E Com'è Com'è lavorare Per gli australiani Cioè Come reagiscono Alla cucina italiana Che altro Senti Gli australiani sono Perché La gente pensa All'estero Quando lo pensa Alla cucina Estra italiana Fa riferimento Sempre a quella americana Cioè L'americano Solitamente Cosa fa? Prende la ricetta italiana La sconvolge Completamente Però Continua a chiamarla Tipica italiana Qua invece In Australia Sono molto rispettosi Della cultura Diciamo Del cibo Estera E Non avendo poi Una cultura Di per sé L'australiano Perché c'è un po' Di background inglese Ma C'è una sega C'è tipo La parma Che è Non so La cotoletta di pollo Con l'ovo Spaccato sopra Il bacon Cioè Questo è La Cicina australiana E Quindi Qua a Melbourne C'è tanta 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 diversità C'è tanta diversità Culturale E culinaria Cioè Se io esco di casa E non sto neanche in centro Per di trovo il malesiano Il libanese Il pakistano Il turco L'italiano Francese Cioè C'è una sfizia di ristoranti Che Cioè Di cucine Che non avevo neanche mai Mai visto nel mondo In realtà E Però Rimango Comunque mantieni La tipicità Della cucina Chiaramente Alcune ricette Sono un po' adattate Per di Sulla pasta ragù Magari Ci metti L'olio all'aglio E il prezzemolo In uscita Però niente di No Di Di troppo Di troppo Anormale Ecco Invece loro A parte questa roba Della Dell'ovostrutto Sopra l'autoletta Eccetera Che cazzo mangiano Perché T'è un certo punto In una live Ho tirato fuori La Il coccodrillo Sì La coda di coccodrillo Sì 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 No Queste sono le cose tipiche Tipiche diciamo Della cultura aborigina Tipo la coda di coccodrillo La carne di canguro E Sono state le forze Formiche Un po' più Sì Le mu Per dire Cioè Roba un po' più Un po' più strana Però in realtà Mangiano Mangiano tutto L'astraliano L'astraliano tipico Non è che è proprio Un amante della cucina Cioè va spesso Tipo Cinque giorni su sette Va a mangiare fuori E quelli altri due giorni Magari fa la roba congelata Da mettere in forno Solitamente Sono Grandi amanti del barbecue Quindi si fanno Si fanno tutti questi Questi barbecue enormi Anche Anche quasi d'inverno E tra l'altro Lungo L'Oriarra Che è il fiume Che attraversa Melbourne Ci sono tutti Tutte le postazioni barbecue Con i tavolini gratuite Cioè te vai lì Accendi il barbecue Ti fa la grigliata Sul fiume O comunque al mare Pulisci e te ne vai Tutto gratis Ganzo E anche te mangi sta roba Quindi Perché se ce l'avevi nel frigo La oda di coccodrillo Vedrai La mangiare Vedrai la mangiare Sì 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 Ma infatti Il canguro Comunque è ottimo Per esempio Per Per diete sportive O comunque Per diete In sé per sé Perché la carne È molto magra Quindi alla fine Sì ci sta Cioè La inserisci in mezzo Una bella tartare di canguro Per adesso sa il canguro Di merda No sa di Sa Sa di È dolciastro È dolciastro Molto ferrosa Come carne Molto rossastra Tipo il cavallo Sì sì Un po' Un po' meno dolce Però sì Più o meno sì 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 E invece la ossa più strana Che ti è capitata di mangiare Che ti hanno fatto mangiare Ma ho provato Una volta ho provato La cucina malesiana Che è roba Abbastanza normale Però poi È talmente pesante Che ti cae addosso Per tre giorni di fila E se no L'esperienza Sì ma proprio Cioè male E poi c'è l'esperienza Più bella Ce l'ho avuta Da Attica Che è anche Nella serie tv Netflix Chef Table Che è un ristorante Stelle Michelin Mi ha portato Mia ragazza due anni fa E E abbiamo mangiato Tipo appunto Che cazzo ne so La tarta di canguro Le formiche al limone Le formiche del miele La costoletta Di coccodrillo No vai a mangiare In situazioni un po' più particolari Fate i DMU Insomma Roba un po' strane Sì 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 Ok E invece il covid E lì come siamo messi? Covid è stata una situazione Un po' strana Perché in realtà Siamo stati In uno dei paesi Cioè siamo Sono Sono sempre Un po' un immigrato Uno dei paesi migliori Al mondo Perché quando Esplose Tutti avevano Migliaia e migliaia Di casi All'inizio E noi abbiamo mantenuto Non più di tipo Cento al giorno E poi Praticamente Siamo stati Per due mesetti Quasi interi Con un caso al giorno In tutta Australia E solo che Da ieri sera Hanno rimesso il lockdown Tutto Solo qua a Melbourne In tutta Australia Perché da Fate conto Da un caso al giorno Per un mese Siamo passati a E roba tipo Mille casi al giorno Nel giro di una settimana Quindi Magari facciano Poi i tamponi Prima Eh Diciamo che È precipitata Così In fretta Stanno ancora Cercando le cause Ma Sembra che C'è stato un focolaio Tipo in un palazzo Enorme Di casse popolari E È successo Perché il guardiano Che doveva controllare Questa gente Che non uscisse E andasse a giro Si è pipato Una nel condominio E poi è andata Sparge tutto Tutto in giro Cioè Quindi per uno che Per una trombata Ovviamente stiamo in lockdown E hanno perso tipo Lavoro 500.000 persone Beh Direi non male Direi più male Non male Sì assolutamente Ci sta proprio Sbora Sbora Parliamo dell'argomento chiave Di quest'intervista Grazie Giacomo e Doge La fica Allora Diciamo Allora Te Presumo che quando sei partito E sei levato dal cazzo Eri single Oppure no Hai lasciato Hai perduto la ragazza E naso Ti sei levato da mogione No 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 Ero single Ero single Quando sei arrivato Ecco Ora stai con un'australiana Mi pare di capire Sì So con Alissa Che è la mia ragazza australiana Di origine cambogiana Quindi ha Diciamo tratti Del sud-est asiatico Però australiana Sì 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 Ok Ecco La differenza Tra Una ragazza italiana E una ragazza australiana Qual è? No Non nel senso Ti dico Quello genere Non è portarsi Dovete Mi raccontare No Che perché A parte la mia ragazza Ragazza australiana Per assurdo Non ce l'ho mai avuta In questi tre anni E Ma in realtà Diciamo che La ragazza italiana È un po' più È un po' più Diciamo Principessa Cioè È un po' più da Ora scusate Non voglio magari Discorsi Ah è maschilista O roba del genere Cioè Sono discorsi al cazzo Eh È un pochino più Da corteggiare Sembra La ragazza italiana Invece la ragazza australiana Te la smolla Abbastanza facilmente Mamma mia Si scateneranno Delle polemiche Su questa frase Fazzetta Detta veramente Scusate per le luci Ecco No 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 Molta Con Chiaramente Con tutto il rispetto Del caso Ovviamente Solitamente È un pochino più È un pochino più Qua si dice easy going Cioè un pochino più Alla mano Ecco Mettiamola così Un pochino più alla mano E solitamente L'igiene Non è Una delle top qualità Dell'australiano In generale E quindi Davvero Sì Sì Cuglioni Cuglioni non lo so Perché No non le ragazze In generale Insomma In generale L'uomo in funzioni di oioni Sì 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 In generale sì Diciamo che l'australiano Non è molto pulito Ma un po' nella vita Poi nella vita Appunto quotidiana Cioè casa No Per genere personale Un po' così Ho capito Ma scusa Ti posso chiedere Da cosa non hai capito Che sono sudici È perché Lo sento dire Esperienze E Vabbè Quando vai nel casa Della gente Che ti ospitano Lo vedi che La gente lezza Cioè Che Quando uno Quando uno Tiene casa No pulita Cioè Porve rumi Vari Eccetera E E poi Comunque In bagno Magari puoi far pipì In casa di un altro Travi la smerdata Esatto È vero Successo È successo È successo Che schifo Dio Madonna Va bene Ma è interessante Senza dubbio La cosa più interessante Sì sì Assolutamente Assolutamente Invece Melbourne Come città Com'è Perché io Non mi sono mai Interessata All'Australia A partire Cioè Convincimi un po' A venire in Australia Che cosa mi proporresti Per Per far venire in Australia Quali sono i punti forti Del turismo Australiano Ma Senti In Australia Ragazze Che la smollano Come hai detto te Però Poi No Fondamentalmente È la prospettiva Per il futuro È il lavoro Qua Che ti fanno Non te ne rendi conto Fino a quando Non ci Non ci sei Non te la vivi Per almeno Per almeno Un paio di mesi Perché c'è una differenza Sociale e collettiva Poi tra Tra l'Italia Cioè rapportata poi anche Soprattutto con l'Italia Che è immensa È proprio un sistema funzionale Dove Ti meravigli di quanto funzioni Tutto perfettamente E Stupendamente C'è proprio un rispetto Per il pubblico Un rispetto per Lo Stato Un rispetto per comunque Il Il collega Tra molte virgolette Cittadino No Quindi se Se faccio Io sono educato Fin da piccolo Australiano A non fare qualcosa Che vada poi a danneggiare Non solo me stesso Ma anche Comunque Gli altri cittadini Quindi c'è proprio Un Un senso collettivo E sociale Che Che manca in Italia Dove magari invece No C'è sempre questa Questa smania Di voler eludere E tutte le situazioni No Se sto bene io Che cazzo me ne frega E L'importante Che il mio giardino sta bene E poi quello che succede fuori Sti cazzi Fino a quando non toccano In me Sul personale Le situazioni Invece qua C'è un senso di Un senso comune Un po' più condiviso Ecco Ok Sotto il lato sociale Poi lavorativo Vabbè È un'altra È un'altra Veramente È un'altra storia Cioè Io in Italia Lavoravo 6 giorni su 7 12-13 ore al giorno Per 1000 euro Qua in Australia Lavoro 5 giorni su 7 Una So 35 ore a settimana Più o meno E E mi pago un affitto Cioè prendo Una roba come 3600 dollari Che Pagandone Pagando un affitto A 10 minuti dal mare 1260 al mese Per dire Per avere un po' Una proporzione Di stipendi E comunque Io prendo Uno stipendio Abbastanza Basico Cioè prendo 26 dollari l'ora Per esempio La mia ragazza Che lavora Per l'ingegnere civile Ne prende 72 l'ora 26 dollari Specifichiamo Australiani Che hanno un valore Australiani Sì 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 Australiani No ma io ti dicevo A livello turistico Più che altro Cioè non Ah scusa No no ci sta però Perché mi hai risposto Comunque a una domanda Che ti volevo fare Se volessi venire in Australia A livello lavorativo Per farmi una vita È un conto Ma se invece Volessi venire in Australia Per fare il turista Cosa c'è di bello Cosa mi consiglieresti Di vedere Specialmente a Melbourne T'ho fatto la digressione Sulla social Ma va benissimo Ma va benissimo Non ti preoccupare Non ti preoccupare Senti Turista Vieni fondamentalmente Qua a Melbourne Non ci viene Cioè se viene La turista a Melbourne Sei un coglione Cioè proprio Chiaramente Perché non c'è Non c'è oggettivamente Nulla Sì è carina Come città No Però non ci vai A far turista Se vai a far turista In Australia Secondo me Vai al nord Comunque da Sydney In su Che è tutto il Queensland È tutto la Gold Coast E quindi ci sono le spiagge più belle Cioè le spiagge certificate Più belle al mondo E c'è comunque Sempre caldo Ogni giorno è caldo E trovi veramente Il mare Il mare dei sogni Le spiagge da sogno Foresta Escursioni Foresta pluviale E via dicendo E qua a Melbourne Fondamentalmente Non c'è un cazzo Cioè c'è la città La metropoli C'è il mare Che però è L'acqua è ghiacciatissima Perché è Praticamente acqua Dell'Antartico E Sì Quindi non è Neanche il bagno D'estate Cioè a 46 gradi D'estate Non riesci neanche A fare il bagno Perché c'è l'acqua Tipo è a 15 gradi E E quindi non ci viene Il mare non ci viene Sì è carino Ci sono le colline Tipo intorno C'è i vigneti vari Ma poi Però sì Se vai Se vieni in Australia Devi andare al nord Dove poi vanno Magari a far surf E via dicendo Mi chiedono Di chiederti Del lavandino Cioè la tua esperienza Con il lavandino Si parla di piscio Mi sa Si dice la leggenda Dice la leggenda Che Si vocifera Si siccome Si vocifera Che siccome il mio bagno È piccolo È cubico Fai conto che È un quadrato Ok Tutta la fascia a destra La porta è centrale Tutta la fascia a destra È occupata Dalla vasca Più la doccia E davanti In fondo C'è il lavandino Con lo specchio A sinistra c'è La lavatrice E poi c'è il cesso Che è nell'angolino Alta a sinistra Che dà Verso la porta Solo che Non c'è Quindi non riesco A mettermi in piedi Davanti al lavandino Non ci sto proprio fisicamente Perché non c'è Spazio tra Lavatrice e lavandino E quindi si vocifera Che io piscino al lavandino Però non è niente Di confermato No no chiaro Ovviamente La famosa isola Della Tasmania È di fronte a Melbourne Chiedili se C'è mai andato No No Non sono mai andato In realtà Dopo tre anni Dopo tre anni Di Australia Non sono mai uscito Da Melbourne Perché ho sempre Lavorato come un ciuo E nonostante Comunque sia nei progetti Perché Nova Zelanda e Tasmania Sono veramente belle Per paesaggi Trekking E roba varia A me non fanno impazzire Sinceramente Come esperienze Diciamo Sono proprio Un montanaro Diciamo Uno che riga Al banda montagna Però Sicuramente Sono bellissimi posti Da vedere Ho capito Però non ci sono mai stato Chiedono se è vero Che gli australiani Sono circoncisi Domande proprio Specifiche Ma senti Secondo me Hai parlato di Lezzo Quindi Si chiedono subito Gli australiani Avranno la ricottella E quindi Si circoncidono Per evitare La ricottella Informarsi La ricottella Capito E' quello il discorso Penso Ipotizzo Senti Io non sono mai andato A esplorare Nel dettaglio Però Ci sono Molte comunità ebraiche Qua a Melbourne Anche nel quartiere Dove sto io Proprio ci sono Delle comunità ebraiche Ortodosse Quindi proprio Quelli Cioè quelli veri Quelli con le trecine Il cappellone Il 46 gradi Con il cappello Di pelo La giacca Cioè proprio Quelli Quelli veri veri E quindi Si Molto probabilmente Si ce ne sono Ce ne sono tanti Di circoncisi Fai streaming In italiano O in inglese Chiedono Italiano 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 Ci abbiamo pensato Ma in italiano Perché Partire con la tag inglese Non essendo C'è la categoria Australia Se ti metti In una categoria In inglese Sparisci Perché ti becchi Tutta l'America Ti becchi tutto Lo streamer Internazionale E via dicendo Quindi Se parti da zero Senza nessuna base Su Twitch Secondo me È impossibile Emergere Dalla categoria inglese Qual è il piatto Italiano Preferito Dagli australiani Dall'australiano In sé Direi La Parma Fondamentalmente Quello che ho detto Io La Parmigiana Che qua È la cotoletta Di pollo Con fritta Con sopra La salsa di pomodoro L'uovo Il bacon E Questa roba Sì Però Anche la pizza Non distegnano Ecco Questo ragazzo Chiede Hai mai scopato Grazie alle tue doti Culinarie Cioè Hai mai portato In cuscina Una cliente Per poi Trombarla Sui fornelli No Dario Dario mi ha fatto La stessa domanda Quando passò in chat Ah sì Se aveva trovato Qualcuno nei fornelli Sì Ah ecco perché Nessuno aveva fatto Questa domanda In realtà Ho fatto finta E leggere la chat In realtà L'ho fatta io Forse è per quel motivo No Comunque no 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 Semplicemente perché Diciamo rispetto Il luogo di lavoro Ecco Il risultato non è mio Quindi non mi permetterei mai Per come sono fatto Ho capito Però è del tu zio Ed è del tu zio Eh vabbè Ho capito Una cliente Le ame Metti velo La pelle delle ame E vedi che trovo io Una figlia su Su Fornelli Insomma è un po' strano Beh sul tavolino Aspetti la chiusura Gli dici aspetta Gli metti un messaggino Sul dessert E via Aspetta Fornelli Fornelli poi è accesi Bello Con Fornelli Un po' Un po' hardcore Però ci sta Ci sta Lo zio approverebbe Gnamo Beh dipende Lo zio è livornese Sì sì Lo zio è livornese Ah allora sì Che apprezzerebbe Sì approverebbe Lo sai che ci vede a trovare Sui fornelli accesi Uno come il sabacu Secondo me Perché il sabacu? Ah non lo so Mi dà questa idea Di Di persona Se sono Sessualmente aperta Sai che sono d'accordo Secondo me il sabacu È proprio un porco È proprio un porco È proprio un malandrino Secondo me Sì 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 Perché ha Quest'area no Tutto da Persona paziente Tranquilla Quadrata Secondo me invece Scova come un Un lupo Un leone Sì 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 Si fa No non si fa Non si fa Andavo Però sì Sono d'accordo Poi mi fai Di questo Sicuramente Silvo Michele Io Non è un dissi Cassuta Anzi Per noi è un Complimento Assoluto Sì sì È un pre Pregizio Tra un basso Fornelli accesi Secondo me fa come i leoni Si fa mordere i coglioni Basta E poi Un livornese Seministica È come invitar Matta le sassate Se mi fai Sti discorsi Il granchio Nelle mutande Il classico Fa volo Nelle mutande Bello anche Grazie a Dick Su Kaisa Per l'abbonamento Madonna che belle Le tarantole Di 5 metri Abbiamo già smentito Queste Ce l'avevo io Le tarantole Comunque a casa L'ho tenute Per un annetto e mezzo Le tarantole A casa Ho tre tarantole Quattro sling Che sono I cuccioli Cioè i baby Tarantola E due o tre scorpioni Però poi Ma i grilli Mi stavano rompendo Troppo il cazzo Ti giuro Perché il problema Di tenere i ragni Non è tanto Tenere il ragno Perché mangia una volta al mese Cioè quindi Poi lo sta lì Fa cazzi sua Ti pulisci un po' la peca Ma grazie di vederci Il problema È tenere i grilli Vivi Perché il ragno Non mangia la roba morta Mangia solo roba viva E quindi Cioè per tenere i grilli È un casino Cioè vai a dormire la notte Se non c'hai il giardino Se ti fa Dopo un anno e mezzo L'ho tirati fuori dal terrazzo I grilli Cioè hanno rotto gli oli No poi a me farebbe troppo impressione Dagli da mangiare la roba viva Mi dà veramente fastidio Sono animali strani sono Sono animali strani Ma poi mi garba A coccolarli l'animale Mi serve qualcosa Eh ragno Ragno lo può Con la carantola poi Cioè lo puoi fare Però poi sono cazzi tua Il giorno è tutto bello Come sembra Oppure hai vissuto momenti Anche sgradevi Di qualsiasi tipo Poi c'è odio Contro lo straniero Beh è una domanda Abbastanza ampia Scusa stavo leggendo Piccola digressione Sava a cui Che scopo su Fornelli Bonfire Kindle Di Dark Souls Effettivamente c'era C'era questa Questa Comunanza E No in realtà L'italiano è molto valorizzato All'estero Almeno qua in Australia È È molto molto valorizzato E anzi Anzi Ti portano Se dici che sei italiano Sei proprio Sei proprio Porti L'esoticità Nelle vite quotidiane Penso sia l'unico paese Al mondo Che fa questo discorso Riguardo all'italiano Poi è incredibile No no infatti Ma perché fondamentalmente Per di Melbourne È stata fondata Dall'italiani Sono tre Le macro Sì vabbè Tre Le categorie Sono greci Libanesi E italiani Infatti sono i tre quartieri Principali Di Melbourne E E quindi ci hanno Molto rispetto Perché Perché comunque Siamo ovunque Siamo anche qua In Australia Eh immagino E poi ringrazio Capital Medusa Tank994 E Strou102 Poi l'altra sera Quando ti seguivo Mi ha incuriosito parecchio Il discorso Che hai fatto Riguardo i piatti Perché I piatti che servite Nel vostro ristorante Hanno dei nomi Che Diciamo mi Ricordano Vecchi pasti Del passato Tanti modi di dire Tante parole Che a Livorno Insomma Si dicono Molto spesso E puoi raccontarci Quali sono Questi piatti Dovete sapere Che Il mio zio Comunque È abbastanza giovane E ha uno spirito Molto scherzoso Goliardico Goliardico Molto goliardico Il mio zio E Non solo Comunque Abbiamo anche Quasi Diciamo La tua comicità Cioè Noi ci creiamo I personaggi Cioè Nel nostro universo Quando andiamo fuori Ci sono proprio I personaggi Che magari È gente a caso Che però Viene poi elevata A supereroe Certo C'è tutta la lore E Quindi Essendo comunque Una persona Molto scherzosa Molto allegra E positiva E Quando è aperto il ristorante Gli hanno dato Comunque una pizzeria Cuscina tipica Street food E Hanno dato Ai nomi delle pizze Che sono quelle che poi In realtà Puoi modificare Nomi abbastanza particolari Non so Ci abbiamo avuto La Un po' tutti Diciamo Relativi a cultura italiana E soprattutto Livornese Ci abbiamo avuto L'Aigor Protti Innanzitutto Che è capitano Il Livorno E Ci avevamo La Lino Diamanti Ci avevamo La Bella Topa La Boia De Ci sava la Sonasega E Ci sa Cioè ci sa Ancora La De Cocco No Quella ci sa Aveva Poi c'è la Fiato Per esempio La Favaini Favaini È un'altra pizza È una pizza bomba Favaini Praticamente È come di Ragazzi De Fai soldi Questo disco Però noi lo applichiamo Per indicare qualcosa Che non ti soddisfa Pieno Ecco Diciamola così Esatto Esatto E Favaini È come dire Ecco sì Insomma Hai una fame Incredibile A un certo punto Mangiati un McTost De Favaini Un McTost Quello Non mi soddisfa Però è Ganza Appunto La nostra ganza Perché Da Livornesi Soprattutto Quando arrivi Venerdì sera Sei nel casino Con 6.000 Roba da fare E cosa Poi arriva L'australiano Che fa Sorry I would like A Bella Topa E allora Ti scavo Oppure Can I have Sonasega Con l'accento Marcato E quindi Ti ci diverti Ecco No no Quello senza dubbio Goliardi Ma loro sanno Quando ordinano Le pizze Sanno cosa Vuole dire Quella roba Ma no Non si curiosiscono Nemmeno Cioè non ti chiedono No Non si curiosiscono A volte Mi sono gli lo dice Però Sono storie anche Sono storie anche Strane per dire C'è una che si chiama Gigi Balla Che era l'orso Del partere Ma come fanno A saperlo Gigi Balla Cioè Capito Neanche i Livornesi Lo sanno Sì Poi sei nato Negli anni 70 E sei cresciuto Quindi negli anni 80 Lo sai Ma Se non è impossibile Mi ricordo Che era l'orso Al partere di Livorno Al partere di Livorno È un parco È un parco Sì È un parco Dove prima c'erano animali E E ci diceva Che quest'orso Una volta Cioè dicevi Balla E lui ballava C'era questa leggenda Si chiamava Gigi Balla Sì Mi ricordo Questo aneddoto Eravamo all'Etna Comics Eravamo ospiti Io e Frusciante Frusciante attacca Questa ringa Immensa Sui film Eccetera Mamma mia Al soldo A un certo punto Davanti a Una platea Di solo Siciliani Fa De Questo registro Capisce una sega Cioè Davvero E fa È come De Mettere il film Gigi Balla Io faccio Guarda Fede Hai fatto un paragone Che non possono capire I siciliani Catanesi Che cazzo è Gigi Balla L'orso del parterre Di Livorno Negli anni 80 Cerca un altro esempio Per favore Ah già è vero Dario La sega Corretta Puccio Sterza Potete inserire Come pizza Rob Mage Puccio Sterza Interessante Puccio Sterza E poi E poi abbiamo anche Diversi 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 nomi Abbiamo avuto Di supereroi Diciamo Del luogo Cioè Per esempio In futuro Metteremo La spaccamano Che è una pizza Che c'è questo vecchietto Italo-Australiano Che quando arriva Si chiama Pietro E quando arriva Ti può sempre Dare la mano Ma te non hai idea Che potenza c'ha Questo Cioè proprio Ti frantuma la mano Quando Sai Parte proprio Di rincorsa O si Proprio Bello cario Ti strastrita Non so Non so perché E quindi Ci creiamo L'eroe L'eroe Spaccamano E quindi Verrà inserito Probabilmente Nel futuro Spaccamano Quindi Probabilmente Ci sono Le pizze Dei personaggi Della lore Del vostro Sì Interessante Ha perfettamente Senza Ma sì Bisogna dargli Il lato comico Dai Per forza Per forza Con la mano Unta Che non si dava mai Già perché Sono lezzi L'Australiano Certo Sono lezzi Ormai E' rimasta Guate Il discorso è Crollato A quel punto Sì sì Pizza Dario Moggio La pizza Zeb 89 Suggeriscono Ovviamente Hai provata Dario La pizza Zeb Sì l'ho provata L'ho provata Sì sì L'ho provata Tra l'altro Ho visto che l'apprezzavi Ma voto Cioè Allora Non fa parte Di una scala No 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 Ti spiego Hai presente Ricordi Fucinella Livorno Sì Me lo ricordo Fucinella Livorno Lo racconto Perché ovviamente Non è cresciuta Livorno Ma La pizza Facceva schifo Al cazzo Però C'era una caratteristica Fondamentale Pucinella Che poi Non si sa Se è una leggenda Che lì Di Buenesi Poi la gonfiano Sempre Però Se Da Pucinella Pizzeria Pucinella T'arrivava la pizza Fredda Fredda Abbiamo Abbiamo Questa 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 Mi ricordo Le certe Pizzate Nel muro Poi Bisogna Vedesse Chi lo sa Si vocifera Mi immagino Il menù Il livornese E poi sotto La traduzione In inglese Ah già È vero Voi avete No ma Come fate A tradurre Il budello Di tu Ma No 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 Guarda Ce l'ho qua Il menù Ce l'ho In realtà Senza far vedere Nomi Perché Non siamo qua A fare pubblicità Cioè Semplicemente È molto semplice In realtà È molto Sì Ma poi è belvo Cioè È molto semplice Come Diego Armando Capricciosa Carito È bellissimo Carito Cioè E In realtà Non c'è la descrizione Cioè Semplicemente Gli ingredienti Ecco Il carito Spiega che cos'è Il carito Spiega che cos'è Il carito Carito È quando Quando uno è carito È quando È quando uno fa Diciamo Vuole essere qualcuno Ma non è Fondamentalmente Cioè Se Se sei carito È Lo so Deva Boh Ci sono Una gabbia con due leoni Ah io entro dentro E l'ammazzo Boh Eh Lo so Li sconfigo Questi leoni E vieni carito Ad esempio Non so È il poser Bravo Ben È il cosiddetto poser È il poser Sì 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 Carito Vi faccio vedere Questa pizza Vi faccio vedere E dite che ve ne pensate Questa Surco Stallone Italiano Quella sotto Viva Australia Viva Australia Tomato mozzarella Virginia ham No pineapple Porca puttana Vabbè ci sta Io sono un grande Sostenitore Della pizza collana Perché Dimmi un po' Perché Senti Non mi piace Allora Non mi piace L'accostamento Mi fa abbastanza Ca Però Non ci vedo niente di male Nella pizza collana Cioè Io vedo La pizza collana Nass Nello stesso modo In cui vedo Prosciutto e melone O prosciutto e popone Come lo volete chiamare O risotto Pere e gorgonzola Cioè È la stessa cosa Fondamentalmente La buccia d'arancia Grattata sopra Sopra la pasta No Cioè Non è tradizionale Però ci sta Se a chi piace Ci sta Ecco Non ci vedo niente Di Di Non lo so Non lo so Io personalmente Non la vado a ordinare Ecco A me fa ca Cioè Un accostamento Che per me Di gusto Non ha senso Però lo capisco Capisco Chi se lo mangia Poi se mi dici È una pizza Cioè La spazio per pizza italiana No Quello no Però io Sinceramente È un crostore Praticamente Grazie a Scrofalo Dislessico per l'euro Domanda È vero che la comunità libanese In Australia Viene mal vista Viene reputata Una comunità Di criminali Te lo chiede un libanese Ma sinceramente Non ti sopra Risponde Perché non ho Questi tre anni In realtà no Non mi è arrivata Non mi è arrivata Nessuna di questa voce So che Un po' verso nord In realtà La criminalità in Melbourne È molto molto bassa Cioè davvero Basta Te vai in giro La sera Magari In mezzo Alla città A luci spente Cioè Stai tranquillo A cuore leggero Poi gli episodi ci sono Per la morte del cielo Magari la parte nord È un pochino più Quella Quella più toccata La criminale rispetto Ad altre Anzi Comunque ragazzi A parte tutto Veramente io ve lo consiglio Di provare E di Soprattutto post E post Situazione Crisi varia In Italia Del virus Eccetera Di Pensare a Venire in Australia A fare una bella esperienza Ma anche di un anno Anche di un anno Fidatevi che se Sapete fare Un minimo Ma anche se non sapete fare un cazzo Il lavoro lo trovate Anche se non sapete fare Anche se non sapete parlare inglese Il lavoro lo trovate Ma lo trovate Tipo nel giro di tre giorni È chiaro Va un po' Ci si va un po' Bisogna un po' Adattarsi all'inizio Cioè Se non hai grandi risorse economiche Magari vai a vivere Non so In una casa condivisa Oppure stai Per due settimane in ostello Però ragazzi Veramente è un'avventura È un'avventura Che va fatta Perché vi dà Un senso di Al di là del lavoro Poi Non tanto per Per trovare lavoro Ma proprio per realizzare La differenza tra Tra la società italiana E quella australiana Che funziona Va bene Nanni Grazie mille Di essere stato qui con me Grazie di averci raccontato La tua esperienza Quando vuoi venire Sei benvenuto Ti abbraccio forte Grazie a te Dario E ti lascio Magari dormi un'altra ora Prima di andare al lavoro Perché se no Ti ammazzi Sono sette di mattina Sono Grazie mille Dario Dell'opportunità E della chiacchierata Ma figurati Mi ha fatto piacerissimo Ciao Ciao bello Ciao 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 Grazie a tutti.